Dottor Castellani, è cambiata nel tempo la sessualità e il potere del sessuale femminile? Certamente, è proprio dovuto, la partenza è lì, però non dobbiamo dimenticare che appunto nel momento stesso che la donna ha assunto questa capacità di autogestione, ha incominciato a informarsi su cos'è l'aborto, perché negli anni 30 per esempio c'erano argomenti che non si potranno neanche affrontare, mentre per quanto riguarda per esempio anche la capacità di raggiungere l'orgasmo, appunto negli anni 30, il 30% delle donne sembravano che erano considerate frigide, poi questa terminologia è sparita, è rimasto praticamente la difficoltà di raggiungere l'orgasmo, ma allora quando c'era poco interesse per la sessualità o non un vivere la sessualità con piacere, venivano definite frigide, bruttissimo termine, poi la donna frigida non esiste. Il problema è che appunto da quel punto in poi la donna ha incominciato a chiedersi cos'è l'orgasmo, come raggiungerlo, quali sono le sue parti anatomiche preposte per provare piacere, com'è fatta fisiologicamente, anatomicamente, a capire che non è più perdente nei confronti della sessualità maschile, ma anzi una donna consapevole e capace di una sessualità libera e soddisfacente, o meglio ancora appagante, è superiore a quasi quella dell'uomo che non potrebbe certo stare dietro una donna capace di avere una sessualità che sia degna di essere chiamata come tale. Anche tra l'altro in considerazione del fatto che per certi versi oggi possiamo considerare quasi l'universo femminile, forse addirittura più evoluto di quello maschile per certi versi. Sì, è stato proprio lì negli anni 60 che la donna ha incominciato ad andare in macchina, guidare la macchina, andare al mare, mettersi i bikini, non dimentichiamo l'avvenuta del Viena, è stato nel 70-75, quindi questo cambiamento anche dei vestiti, del modo di proporsi, del modo che andava a feste da ballo, andava appunto al café chantan, tutte queste cose che hanno siglato un'epoca che era in totale contrasto con quello che era stato prima.